Ci ha raggiunto in studio Domenico Mastro Giovanni, responsabile vitivinicolo della CIA Confederazione Italiana Agricoltori. Buongiorno. Allora, che strategia adottare per non perdere il nostro patrimonio vitivinicolo? Anche perché il fenomeno mi sembra che piano piano interessi un po' tutto il territorio nazionale. Serve una strategia che consente a chi oggi è un elemento fondante del patrimonio vitivinicolo che parte dalla gestione del vigneto per finire poi a quella che è la commercializzazione di vini e anche grandi vini faccia sì che ci si sente imprenditori ma al stesso tempo imprenditori tutelati perché qui c'è una confusione in cui il patrimonio sembra essere fondamentalmente immateriale invece il patrimonio più importante sono le risorse umane che vivono sui territori su cui bisogna investire. Pensate quando queste poi sono le aree interne in cui c'è una progressiva decremento di questa presenza. Allora, nel settore del vino sta succedendo una cosa incredibile perché il CREA ha testimoniato che fatto 100 il PIL il 20% è immateriale. Chi pensava 20 anni fa al fenomeno dell'enoturismo? Però si può affrontare se c'è una preparazione di base, se ci sono imprenditori giovani che devono comprendere che essere protagonisti in un settore come quello di un vitivinicolo è come lavorare nella alta tecnologia o quasi nella moda. Certo, è chiaro, quindi non è solo la terra ovviamente. Quindi il problema del ricambio generazionale cui lei sta facendo riferimento ha visto dal servizio come si difendono appunto nelle langhe. Secondo lei è la strada giusta? Allora, il ricambio generazionale deve essere accompagnato da una riconsiderazione del ruolo di alcuni produttori del Made in Italy che va all'estero perché, come dicevo, il fenomeno dell'enoturismo ha messo in campo una revisione di quelle che sono le opportunità che hanno i territori ma che hanno anche gli attori che vivono nel territorio, le comunità che vivono questo territorio. Però ci vuole attenzione con delle politiche possibili su cui noi lottiamo quotidianamente che non è solo l'incentivo ma anche l'attenzione con i servizi di base che servono per avere delle comunità vive, vivace e resilienti. Senta, quindi anche i vini di eccellenza secondo lei soffrono per la carenza di madonna opera nelle vigne? Assolutamente sì perché in territori in cui ci si sente isolati l'isolamento è una perdita di comunità, quello che serve è recuperare la capacità di essere una comunità attiva, vivace in cui ci si sta bene e il lavoro è la prima cosa ma servono anche delle altri elementi come la scuola, la sanità che non possono essere dimenticati altrimenti ci sono questi bei elementi molto forti dal punto di vista territoriale ma che non hanno un risvolto umano e sociale che invece è importantissimo in questa fase, in particolare quando la si può vedere a livello di internet il lago di qualche secondo.